No, 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 come ti farò? Aspetta, levati, levati, levati. Allora, devo stare attento a cercare il pallone, non mi ha stordito. Ti ho stordito e mi sono fatto autogol. Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph e questo gioco a Headball. E vi starete chiedendo che cos'è Headball perché sì, oggi abbiamo deciso di fare un video, anzi un tipo di video un po' più particolare, un po' diverso dal solito. In pratica giocheremo a calcio con due personaggi che hanno una testa gigante e che fanno super poteri stile Oli e Benji. Fantastico, praticamente siamo dei super eroi ma calciatori e dobbiamo cercare di far gol. È un giochino davvero carinissimo, speriamo che vi piacerà e possiamo iniziare. Esattamente, ogni tanto ci piace fare qualcosa di diverso, quindi visto che stiamo facendo molto Minecraft e Roblox abbiamo detto portiamo qualcos'altro. Abbiamo trovato questo giochino, ci stiamo giocando un sacco fuori dai video e quindi abbiamo deciso di portarlo. Siamo pronti? Sì. Vado, ti richiedo la partita. Ok, arrivata la richiesta, perfetto, perfetto. Il mio personaggio è bruttissimo, è notato, il paragonte è brutto però non ce n'erano altri e che dovevo metterlo diverso da te altrimenti non ci distinguiamo. Uh, super poteri. Allora, non te li dico, non te li dico. Io me li sono già messi. Non te li dico perché così sarà una sorpresa, non sai che cosa ho scelto, capito? Ti posso fregare. Allora. Ok, allora, sei pronto? Sì, sì. Sei pronto? Devo andarci piano o posso essere cattivo? Decidi tu. Allora, no, no, vedi, stai già andando cattivo. Allora, io mi stavo fidando. Non mi avevi risposto. Mi stavo fidando di te. Tu non hai risposto. Uh, che parata. Bello, bello, sì. Faccio schifo a calcio, non c'è bisogno che mi fai complimenti. Olè. Non c'è bisogno. No, no, no. Ti pesto, vedi, almeno questo lo so far bene. No, ti so pestare bene però. Mentre tu, adesso ti faccio le faccine. No, 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 non provare. No, no, autogol, no. Dai, vi prego. No, ma dai, che faccio. Faccio davvero schifo. Lo sappiamo. Uh, pallonetto. Ok, nella parata. Faccio davvero schifo. Allora, concentrazione. Concentrati, brava. Allora, questi tiri alti io non li so farare, quindi. Ok. Olè. Brava. Wow. Che tiro bellissimo. Yeah. Uh, bello questo. Allora, faccio qualcosa di antipatico. Tipo, uh, no, 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 come ti farò? Aspetta, levati, levati, levati. Allora, devo stare attento a cercare il pallone. Non mi ha stordito. Ti ho stordito. E mi sono fatto autogol. Questo impari, perché, vedi, hai cercato di picchiarmi, di farmi del male. E mi sembra giusto. E questo è quello. Uh, oh, oh, oh. È quello che succede quando si picchiano le signorine. Io mi stavo divertendo e tu mi hai fatto due gol. Allora. Ma no. Che hai fatto? Che ho fatto? Hai congelato la pallone. Ma mi faccio anche... Allora. Non mi è piaciuta la tua tattica. No, mi sono confusa un attimo, perché ho visto il congelamento e ero convinta di congelare te. Non ho capito perché sei congelato il pallone. Non ho capito. No, 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 devo scappare dall'arbitro. Ok. Ok. Fini. Di già, finita. Eh sì. Dura pochissimo. Però è a chi ne vince due. Sei pronta? Quindi puoi ancora recuperare. Ma no. Lo sappiamo. Vabbè, io mi diverto lo stesso. Quello è l'importante. Tanto poi, capito, finisce il video, ti pesto nella realtà e sono a posto che... Ma scusa. Sì, ma chersi. Ma sei pazza? Ma cosa vuoi picchiarmi? Ah, ti picchio sempre. Ti prendo a calci in faccia. Lo so che non lo vuoi dire in pubblico. Lascia la palla. Ignora la palla e vieni a picchiarmi. Salta la palla. E la colpisce. No, no, no. Volevo fare... Volevo fregarti a fare... Allora. Ok. No, ma non ce l'ho perduto. Vieni. Vieni. Aspetta. Stai ferma. Stai ferma. Ok, ok. Allora, facciamo fermare il pallone. Esatto. Ok. Vieni qua. Veloce. Guardaci. No, no, no. E adesso ti faccio fare anche un tocco. No, mi ero distratta. Allora, concentrazione per fare bella figura, su. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, no. Allora, calmi tutti. Che stai facendo nel mentre? No. Uo. Allora. Sì. È arrivato il momento di usare i superpoteri. No. Vediamo che cosa ho. La porta piccola. Ma che schifo. Ma sei seria? Non mi giudicare. Non mi giudicare. No, no, no. Allora, la devo saltare. Uh. Ce l'ho fatta. Bellissimo. A furia di farmi 8 gol, ho capito un po' come funziona. Sai com'è. Sai com'è. Guardate, questa è una ferinica. Che in tutti i modi vorrebbe non subire un gol. Ma tu clicchi un tasto. E la sua porta diventa gigante. Mi ha anche congelato l'arbitro, però. Il gol te l'ho fatto lo stesso. E vieni. E vieni che ti dribbla. No, 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 no. Di testa. Allora. Di testa. Oh, 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 ok. Oh, yes. Aiuto. È la testa strana. Escono traietari strane. Vince di nuovo. C'è una pubblicità di Minecraft. Da me di Amazon. Ti interessa? Molta. Bella. Ok, questa volta ho messo le porte minuscole. Costanti. Cioè, per tutta la partita avremo le porte minuscole. Allora, aspetta. Io mi prendo... Cosa c'è? Ok. Cosa c'è? Questi. Questi li voglio. Ok. 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 Sei pronta? No. Dai, sì, sì, sì. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ma sarà difficilissimo così. Opla. Ma come? Almeno... Sto per dire. Almeno così riuscirò a parare invece noi. E invece no. E invece no. Mi spiace. E invece no. Allora, concentrazione. Su, su, su. Non farmi... Le finte, ok? Ma sono troppo alti questi tiri. Guarda il tiro al volo. Troppo. Troppo. Questo era un gran gol. Sono diventato invisibile perché mi hai fatto arrabbiare. Dov'è? E mi sono fatto... Perché ogni volta che ho in potere ti fai il gol da sola? Non lo so. No, 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 no. La dribla, palla il piede. Sei una bruttissima persona. Allora, cosa ti uso? Facciamo questo. Vai. Eh sì, ma come si può? Guarda, io adesso sto qua fermo. È l'unico... Che succede? Che sono riuscita a... Perché non riesci a segnare? Che problema... No, no. Ecco, te l'ho fatto apposta. Perché sapevo che tanto sarebbe scomparso. No, e dai, no. Gigante, no. Di fronte, proprio dritta come un missile. Bellissimo. Abbiamo impostato la modalità caos. Praticamente succede un imprevisto a ogni fischio. Sarà il delirio. Sarà epico, sarà epico su questo... Vediamo. Oh, le porte giganti. Spim! No! Eh sì. Vediamo adesso. Oh no! Spacca, 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 spacca. Oh, bello, bello. Non ho fatto neanche nulla. Adesso? Adesso che è successo? Forse c'è il tiro potente. No! E l'ho missa! Non ci credo. Traverse! Così impari. No, sei una persona terribile. Ti faccio una faccina. No! Spacca il ghiaccio, spacca il ghiaccio, spacca il ghiaccio! Sei una persona terribile! Allora... Uh, siamo giganti! Buona fortuna. Ti picchio, ti picchio. Bella partita. Aia, aia! Aia! È bellissimo finirsi con questo gigante. Ma bello che ci pazza! Ah, finisce, ok. Ok. Bellissimo! Ma che cosa bellissimo, stai zitto. Ok, porti minuscole. Oh, le porti minuscole! Allora... Questo è difficile, questo è difficile. Ok. Concentrazione. Tutto a palla alta. Tutto a palla alta. E poi la schiaccia all'improvviso. Tipo, spim! Spim! Oddio, che è successo? Non lo so. Le porte... Perché sono diventate giganti? Sono normali, sono normali. Scusami. Mi sono confuso. Adesso mi sembravano più grandi abitiata con le minuscole. Uh, che parata! No. Attento, attento. Traversa. Ma ti fai autogol così, attento. No. Aiuto! Oh no! Goal! Che sfiga. Che un qualche gol. No! Spacca, 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 spacca. Facina. Arrabbiato? Uh! Oh, bella questa parata. Eh... Perché mi mette, anzi, il punto esclamativo con ottenere. Lo so. Abbiamo metto questi invertiti, invertiti. E vabbè, ho fatto gol. Eh, l'hai notato che erano invertiti? No! Uh, non lo sapevo che era il tiro potente. L'avrei sputtato meglio. Quando non vedi nulla. Quando non vedi nulla è sempre il tiro potente. L'avrei sputtato meglio, però. Non è giusto. Ti do l'olio a Benji. Attenta all'arbitro. Attenta che ti congela. Opla. No. Togliti. Togliti. No, 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 no. Vedi, devo stare in porta. Guarda, devo stare lì davanti. Non mi interessa se mi congela. Cinque a quattro. Questa te la sei giocata bene. Sì, sì. Finalmente sto imparando. Sto diventando un calzatore. Provetto. Pronta? Sì, sì. Vai, 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 vai. Allora, vediamo cosa ci succede adesso. Invisibile non è mai capitato. Non è mai capitato. Sarebbe epico. Sarebbe bello diventare. Adesso diventiamo invisibili subito. Vediamo. Ok, tre, due, uno. Aiuto. Ma dai, ma prendo sempre traversa. C'è più casuale, capito, perché stavo semplicemente passeggiando. Eh, questo era bello. Eh, questo sì. Bravo, bravo. Questo era bello. Faccio il pollicione. Sto sdoppiata. No, bellissimo. Ci siamo sdoppiati. Devi dirmelo così riesco. Paramela. Paramela. Non capisco più quale sono io, mio Dio. No, ma dai. C'è testa, traversa, mi va dietro e segna, vabbè. Perché abbiamo delle testone troppo grandi. Tiro potente. Allora. Tiro potente. Pronta? Sei pronta a pararlo? No, no, no. Vado, vado. Ma dai, fai schifo. Cioè, sei colpa tua, però, eh. Sei tu che fai schifo. Ma se... Cosa, cosa ti stai... I tasti invertiti. Nessuna pietà. Nessuna pietà. No, no. No. Aiuto, dove sto andando a quei tasti? Così non capisco nulla. Aiuto. Aiuto. Ah, c'è il tiro potente. Ma no, dai, ascolta. È farloco. È farloco sto tiro, io te lo dico. Oh. No, 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 no. Oh. Aiuto. Perché era di nuovo potente? Non capisco. Non l'ho capito, guarda. Non l'ho capito. Tu pensa a giocare e basta. Se non fosse stato potente avrei segnato. Non l'ho capito. Ok. Doppiati di nuovo. Portieri. Non è giusto. Il tuo lo sfruttino è difficile. Guarda che parate che fa. Bravissimo. Uh, dove sono? Non capisco più nulla. Oh, yes. Questo sarà epico. Per concludere, in bellezza, abbiamo messo il pallone sempre infocato con le porte piccole. Quindi allora abbiamo il pallone sempre... Oddio. Sei matto. Vai, prova. Eh, vabbè, lo devo calciare bene però. Aspetta. Oddio. Ma è difficilissima questa. Lo so. È difficilissima. Sarai, fico. Oh, era fortissimo. Corri, 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 corri. Eh, eh. Eh, 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 eh. Goal, goal, goal. Ci posso credere. Aspetta che ti spacco la faccia. Ti avevo stordita. Boom. Ok. Ora. No. No, 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 no. No, 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 no. Tensione. Eh, boom. Maledizione, non mi piace. Non mi piace questa modalità, non va bene. Uh, brava. Ok. No, otto gol, otto gol. Siamo tornati. Ti posso far notare una cosa? Cosa? Lo vedi che c'è un solo tipo che guarda la partita? Ma io ne vedo due. Io ne vedo solo uno. Io due, vabbè. Vuol dire che non sono belle le nostre partite. Siamo ragione. Eh beh, sì, guarda, con che stai forte. E sta saltando adesso il tipo. Io lo vedo saltare, esultare, non si sa perché. No, perché sei invisibile? Perché sei invisibile? Dove sono? Dove sono? Spim! Spim! Il pallone! E va bene l'altro gol. È il suo stranissimo. No! Vedi che capita, vedi? Non so solo io. A te capita un po' troppo spesso, diciamo. Perché mi piace farmi il tuo gol. Ok, ok, adesso. Uh, che cos'era? Questo era bello. Bellissimo. Aspetta, ti faccio la faccina che piace. Ascolta, guarda, questa qua è... Vuoi picchiarmi? Eh? Spim! Allora, dove ho i superpoteri? Ok, non li vedevo. Al momento giusto penso che li attiverò. Allora... Penso di aver i tasti mergiti per un attimo. Non si sa perché. Ok. Paro, paro. Aia. Ti prendo a calci. Se non riesco a segnare ti prendo a calci. Ok. Mmm... No, è il portiere. No. Togliti. 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 Non posso... Portiere. Porti... Lasciami. Che succede? Lasciami andare. Mollavi. Mollavi. Bello che è sto. Ok. Bello che è sto. Ok. Ma dov'è? Bim. No, sei invisibile, ma no. No. Siamo due a due. Chi segna vince? No. Aiuto. Aiuto. Mi devo nascondere. È il momento di usare tutti i miei superpoteri. Cosa altro hai? Questo. Ma no. Ok. Ok. Sono tornato. Io non ne sto usando uno per gentilezza, comunque. Quale hai? Il più cattivo? Eh già. Il più cattivo? Eh già. Lo vuoi vedere? No. Sei sicura? Sì. Questo è sicura. Ma sicura, sicura? Aiuto. No, no, no. Mi ha incastrato. Neanche ci provo, guarda. Perché sei una persona talmente sleale e scorretta che neanche ci provo. Ok. Perché questo video finisce così. Sei triste? No. No? Per niente. Per niente. Questo ho capito. L'ho fatto apposta perché siccome tu perdi tutte le altre sfide, hai capito? Quindi per non farti sentire. Per farmi sentire a forte almeno a calcio? Sì, almeno a calcio. Il calcio lo fanno soprattutto i ragazzi, quindi non è vero. Che ragazza gentile. Sono pessima a giocare a calcio, lo ammetto. Sono davvero pessima. Però è divertente, dai. Ascolta. Allora, ci sono da dire due cose. Prima di tutto era divertentissimo. Esatto. Come seconda cosa, io a un gioco simile che esisteva anni fa, ci ho giocato davvero tanto. Ma proprio tanto, tanto, tanto. Quindi diciamo che comunque ero avvantaggiato perché sapevo già giocare a un gioco simile. Ma è divertente, è lo stesso. E infatti, io alla fine, anche se perdo con te, mi diverto sempre a giocare alle cose. Oh, mi sono divertita allo stesso. E meno male. Beh ragazzi, giudici così, se non ci lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.